Non c'è neanche il numero tata... Sicuramente le persone della Sede che vogliono situarsi, non significano i punti già al primo passaggio. 2,4,7, 2 punti, 549, un punto. . Grazie a tutti 549, 2 punti, 560 un punto 549, 2 punti, 549 un punto 649, 2 punti, 549 un punto Siamo arrivati a tutti i punti dall'ultimo programma. Siamo arrivati a tutti i punti dall'ultimo programma. Grazie.